Sono primo in classifica con i beat, eh si perchè scavallate il mese, no salva, scavallate il mese Dunque, dicevo nell'introduzione del file che non esisterà mai più perchè l'ho cancellato Io ho giocato Dark Souls offline, poco prima decena, perchè stavo a finire le risorse e non volevo sbroccar Ho evocato un fantasma, che è quella qua, la state vedendo in questo momento Tanto che se io evoco Bernard, o Sirvano, o quello chi è, non è uguale, anzi è peggio perchè non fa un cazzo quello L'ho provato prima, prima di questo tentativo, ma dalle 8 che ci sto a combatte Oh Magno, buonasera Eh si, vabbè, ma non, l'ho fatto offline prima decena, avrei voluto farlo in diretta ma c'avevo paura che Con la smania di, grazie salva Con la smania di, di giocare a Baldur's Gate, c'avevo paura di rovinare proprio la battaglia Ho detto, vabbè, lo sai che c'è, la registro, la faccio prima, tanto è solo una Chandra Che me frega Poi ho fatto delle cose, tipo ho potenziato, ho potenziato la stamina, ho rotto tutte le anime Che c'ho dovevo fare quelle lì, bianche, no? Ho potenziato la spada a più 10 perchè c'è stata la tizia con la coda Che vendeva le... non mi ricordo come si chiama, quella che abbiamo incontrato ai mulini a vento Quanto costa un video commentato... ma niente, dell'istino per gli amici è gratis Eh, scusa eh, perchè che ti serve? Che ti devo commentare? No, no, per gli amici è gratis, poi bisogna vedere chi è, chi me lo chiede Dipende dalla voce, dallo sforzo Se devo parlare più di così, capito, raschiato Oppure se devo parlare più di diaframma, più basso, più... Dipende da come volete ASMR non credo di saperlo fare, io salvo Perchè mi dà cazzo a me sentirlo, quindi mi dà cazzo pure fallo, penso Eccola qua, lei sempre solita Poi ho scoperto, mi sono ricordato, ho scoperto per caso che se possono... Intanto mi informavo Se possono rompere i pallocotti che ti ha dato una maledizione E mi sono ricordato, cioè, ho letto che... Era debole all'elettricità, ma in realtà non è che mi ha dato sto grande balzo all'elettricità Altro che... Questa è la seconda evocazione, perchè la prima evocazione che ho fatto di un altro tizio è entrato Si è fatto da una falciata e è morto Ho rosicato veramente tantissimo Qua gli sono andato sotto perchè uno stava per morire Lei è proprio Gigeriana, una Chandra E' un misto fra cialagonna che gliel'ha fatta Nito Perchè questo è lo stile Nito Proprio è il cappottino dei cadaveri L'altra sera non ce l'avrei mai fatta perchè ero troppo stanco Troppo desideroso definirlo Gli ha dato pure lei l'ultimo colpo, li mortacci tua Ecco qua, ci vediamo pure il filmato finale In quello magari faccio un po' più di silenzio Anche qua l'esultanza proprio becera So io, ecco, questa è la registrazione, non è YouTube Ok, vedi, c'è stato il coso di VLC Ma poi se vedi c'ho il patto del sole Insomma, so io Che cazzo me ne frega di fare le cose fatte a cazzo di cani Ce l'ho le prove, ce l'ho A parte la registrazione ce l'ho Se vedi che comincio, che carico, se vuoi Io penso che questa sia la sala del trono O meno attraente della storia delle sale dei troni Una rosetta con una porta che sembra Non so, non dico cosa perchè stiamo su Twitch Da una vecchia però Il finale qua se tu non c'hai un po' di... Se non hai capito bene la storia È un po' anticlimatico in effetti Sì Ma tutti i finali dei Souls secondo me sono anticlimatici Se non ti godi la lore, diciamo, tra virgolette Se non la... Se non c'è impasti un po' la storia Se esatto, sembra la demandanza Portano di pietra, mamma mia Ma metteci i tu cuscini, no? Comunque con anticlimatico sono a po' Vabbè Non si capisce mai una minchia No, ma lo sai perchè non si capisce? Perchè li devi approfondir Devi approfondir quello che fai prima, salva Guarda, nei Souls vale proprio la regola È più interessante il viaggio che la destinazione Arriva alla destinazione Perchè di solito rimani deluso Se non hai fatto un buon viaggio Noi, come ho detto l'altra volta, abbiamo fatto una run run Perchè Si sa che Dark Souls 2 piace a pochi Ma non per quello l'ho fatta così Perchè Volevo, capito? La volevo fa un po' più sbrigativa Ecco il film Questo è finito Buonasera e buonanotte Questo è stato il nostro Dark Souls 2 Io mi metto pausa Interrompo la live per cambiare il titolo E metto Baldur's Gate 3 Non ve ne andate, mi raccomando